Buonasera, siamo allo Stand Sharp per l'edizione ISEE del 2012. Lo Stand Sharp in quest'anno ha particolare evidenza i prodotti senza cornice Ultra Slim Bezel, in particolare la linea PNV che ha aggiunto al primo prodotto 601, ulteriore serie 600 e il 602. In particolare il PNV602 ha visto il miglioramento nella luminosità perché è un prodotto che è dotato di 1500 candele. Accanto ai prodotti video l'altra novità dell'ISEE del 2012 presentata da Sharp è la serie di lavagne interattive, sono dei monitor full LED nelle declinazioni a 60, 70 e 80 pollici appena presentati. Sono dei prodotti che uniscono alla qualità per la tecnologia full LED la grande interattività legata al software in dotazione, alla possibilità di poter lavorare con prodotti multifunzione che permettono di importare tramite scansioni documenti su cui si può andare a lavorare e su quali poi c'è la possibilità di rimandarli in stampa o di salvarli sul PC che gestisce il monitor.